Come ho detto ieri, non è che c'è un modulo vincente, se fosse quello solleverebbero tutti nello stesso modulo. Non è quello, a volte bisogna avere comunque una mentalità, una mentalità offensiva e quindi, ripeto, con la Spagna il primo tempo è stato ottimo, se avessimo fatto il gol, probabilmente sarebbe stata una partita diversa. Poi nel secondo momento siamo un po' calati a livello fisico e dobbiamo fare qualcosa di meglio oggi, anche se siamo andati in difficoltà nel secondo tempo, quando loro hanno inserito molti attaccanti rischiando dietro, però nel momento dei cambi siamo riusciti a riallungare la squadra, a creare occasioni e poi un po' di sofferenza a fine stagione, i ragazzi sono stanchi, ci stanno, sono stati bravi perché hanno combattuto quando c'è da combattere.